Una villa circondata dalle acque, un lago carico di fascino, un giardino esotico nella luce del tramonto. Siamo a Villa Ginora Massarosa in provincia di Lucca, luogo pucciniano sul lago di Massaciuccoli, dove l'artista Marco Nerero Rotelli presenta, l'11 agosto, un'opera in edita size specific, tra pittura e suoni, intitolata Il canto degli uccelli. Ho pensato a due cose che sono fondanti in questo luogo, che sono gli uccelli, questo canto degli uccelli che forse si sente, e che è proprio una storia che addirittura ispirò Puccini, questo canto degli uccelli, è l'acqua, l'acqua del lago. Il canto degli uccelli è una storia che parte proprio dai diagrammi scientifici sullo studio del canto degli uccelli, che diventano spazio e forma, e la memoria dell'acqua che diventa colore nella grande opera che presenterò qui. A fare gli onori di casa, in un luogo carico di fascino, la contessa Tittiga di Pepoli, che simbolicamente apre al pubblico le porte della villa. Non solo casa nostra, ma comunque un luogo da aprire alle persone, con cui condividere attimi importanti ed emozionali, con artisti, con scrittori, con persone di intelletto e cultura, che sicuramente danno un accrescitivo a questo posto già magico per conto suo. Musica, segni, parole, misteri. Il lavoro di Marco Rotelli, soprattutto nell'ultimo periodo, si muove sempre più spesso a livello delle esplorazioni dei luoghi, alla loro, seppur temporanea, modificazione attraverso l'intervento artistico. Ma eventi come quello di Villa Ginori richiedono anche la collaborazione del territorio e di chi, come ci ha spiegato Emilio Petrini Mansi della Fontanazza, presidente dell'Ions Club di Pietrasanta, si impegna per diffondere cultura. Il salotto culturale di Villa Ginori, fondato e presieduto da me, non poteva ovviamente fare le cose importanti dette precedentemente da solo, ma lo ha fatto grazie al Comune di Massarosa, all'Associazione Ville Borbone di More Storiche della Versilia, la FIDAPA, l'ente per le ville versiliesi, Amity San Frontier, Shen, l'Associazione Cavalieri San Silvestro e il Circolo del Principe. Tutto questo grazie ai Lions, Pietrasanta, Versilia Storica. Collaborazioni che portano alla sinestesia artistica di Rotelli, alla sua capacità di creare, a volte in modo immateriale, a volte con strumenti più classici, nuove forme di rappresentazione del reale. Mi interessa molto la poesia non detta, mi interessa ciò che sta scritto fra le righe, che non riusciamo a leggere, e la natura tante volte ci racconta questa storia.